Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi volevo farvi vedere il mio menù della settimana, vorrei fare questa nuova cosa ogni settimana, farvi vedere il mio menù perché, come abbiamo parlato nell'altro video su come organizzarsi quando si è mamme, una delle cose più difficili è proprio riuscire a cucinare sempre magari qualcosa di sfizioso, qualcosa di diverso o comunque essere molto organizzati. Ecco, partiamo dal presupposto che a me non piace riproporre troppo le stesse cose, non sono quel tipo di persona che ama mangiare quei 2-3 piatti riproposti tutte le settimane l'unico piatto che riproponiamo fisso tutte le settimane è la pizza perché amo spropositatamente la pizza, a parte quello cerco sempre di variare un pochino il menù Allora, rispetto a quello che avevate visto nell'altro video ho cercato di renderlo anche un pochino più carino e ho fatto questo, il file l'ho creato io con Word, se volete ve lo metto poi nel link ho semplicemente usato questi post-it colorati in modo che sia chiaro, il blu stanno per i primi, il rosa per le uova, il verde per la carne, il giallo per il pesce e l'arancione per cose tra virgolette diverse tipo abbiamo i legumi anche qua e qua abbiamo la pizza Questo perché? In modo che salto un pochino all'occhio quante volte mangiamo che cosa perché io non vorrei superare le due volte a settimana della carne, una volta a settimana mangiamo le uova, una volta il pesce e il resto cerchiamo di tenerlo legumi oppure appunto la sera pizza mentre sul pranzo è molto più vario Per esempio, allora, vi leggo il menù di questa settimana Lunedì a pranzo, piadina, perché? Perché in realtà a pranzo sono praticamente sempre solo io a casa mentre a cena ci siamo tutti Quindi, piadina, che è qualcosa di veloce, organizzativamente più semplice La sera, frittata di zucchine Ecco, non è che deve essere fisso Io mi impongo frittata di zucchine perché a noi piacciono le zucchine, ma potete fare una frittata al forno con verdure miste potete fare una frittata con i piselli, una frittata al vapore Questo è un po' uno spunto per riuscire a rimanere organizzati almeno a fare anche una spesa mirata, eccetera Martedì, ravioli con ripieno di zucca che sono quelli dell'essere lunga che a me piace moltissimo La sera, straccetti di pollo più torta salata come contorno In realtà abbiamo fatto straccetti di pollo con i peperoni Ho fatto una ricerca diversa e delle patate al forno come contorno Quindi vedete, è abbastanza variabile Questo perché? Perché in realtà il martedì che era festa alla fine abbiamo pranzato da degli amici e quindi non abbiamo mangiato i ravioli di zucca Mercoledì, no, era mercoledì, scusate Non ho mangiato i ravioli martedì per quale motivo? Perché c'era qualcosa di avanzato, mi sembra Dato che comunque non vanno male e sono confezionati si può decidere appunto di lasciarli lì e riprenderli un'altra volta quando si ha bisogno La pasta al torno mercoledì che è quella che ho saltato perché appunto eravamo via e la sera trota al forno io in genere la faccio appunto semplice con un filo d'olio, un po' di sale, del rosmarino e del prezzemolo Giovedì che è oggi il pranzo penso che sposterò questi ravioli di zucca che non ho mangiato e mangerò giovedì che è oggi e polpette stasera polpette con probabilmente un contorno comunque di verdure saltate venerdì quinoa con verdure che è semplicissima, velocissima ma alla fine un pasto completo e la sera ragù di lenticchie invece molto da mangiare i legumi magari del pane fatto in casa probabilmente sabato pasta, zucchine, gamberi, più mandorle tostate e menta una ricettina che ho trovato che voglio provare la sera, sabato sera pizza ovviamente ma questo è adesso vediamo perché forse usciamo a mangiare non è detto, vediamo domenica pasta al pesto di rucola che ce l'ho già fatto e congelato in freezer perché la domenica a me piace la mattina per colazione fare i pancake eccetera quindi le cose vanno un po' più per le lunghe altrimenti dovrei passare tutto il giorno in cucina per fare anche un pasto di un altro tipo e la sera riso basmati semplice bianco più ceci saltati in padella in modo da mangiare ancora legumi questo per farvi l'idea della settimana che è iniziata e che ci attende io spero di avervi dato degli input delle idee eccetera in genere organizzandosi così la settimana diventa più semplice se vi serve di sapere qualche ricettina di quelle che ho nominato fatemelo sapere che ve le lascio poi nell'info box o vi rispondo al vostro commento io spero di esservi stata utile ci vediamo al prossimo video ciao a tutti